serve a tutti ragazzi benvenuti e bentornati sul canale oggi siamo qui per analizzare che cosa il food champions il mio food champions vorrei darvi dei consigli vorrei dare 10 consigli su come affrontare il food champions io l'anno scorso facevo il food champions e almeno quasi sempre ho sulle 25 vittorie quindi se non sbaglio oro 1 quest'anno sono andato con un oro 3 oro 2 fuori classe 3 come vedete adesso fuori classe 3 è stata una week in league pazzesca la mia squadra lo trovate nel video precedente verrà mostrata è una week in league pazzesca con problemi server ma ho giocato secondo me un gameplay incredibile ero a un certo punto 17 1 ero veramente lanciato verso qualcosa di importante poi due le ho persi i rigori altre due e io non sono ronaldo sono messi non ho le icone si sente la differenza devo essere sincero si sentita la differenza quando nelle partite dove i miei giocatori dovevano darmi qualcosa me la davano però quando magari l'avversario gli serviva il guizzo del campione che io in suarez loro ce l'avevano che ne sono in cristiano ronaldo in ronaldo il fenomeno e lì si sente la differenza quando c'hanno anche ferdinand e tutti gli altri però va bene così 23 vittorie e 30 partite meritatissima perché addirittura ne ho persa una ai rigori facendo 25 tiri 18 in porta cioè lasciamo stare comunque quali sono i miei come dire consigli ecco partiamo subito dal primo consiglio primo consiglio ragazzi giocate senza pensare ad altro cosa vuol dire questo giocate pensando che state giocando la weekend league quindi mollate il telefono non magari non pensate stasera devo fare questo siete che ne so dovete giocare un'ora giocate un'ora pensando a questo e basta non distraetevi usate le cuffie se vi può sentire meglio io non le uso perché non so mi dà fastidio non dovete distrarvi è difficile dovete isolarvi completamente completamente da da tutto il resto secondo consiglio imparate a capire quando state perdendo nel senso siete in striscia positiva avete vinto 12 partite di fila ne vincete una è sudata ci può stare la seconda la perdete e la terza perdete li fermatevi magari avete perso solamente con un gol di scarto è andata bene ugualmente per voi dovete fermarvi mi fermate 10 15 minuti poi riprendete ragazzi veramente fondamentale una cosa del genere perché vi ricarichano sono quei 10 15 minuti che vi ricaricano mentalmente magari poi siete anche un po arrabbiati e state tranquilli fidatevi cambierete completamente il modo di vedere la weekend league terzo consiglio terzo consiglio ragazzi e molti non non sono favorevoli io uso molto molto le forme fisiche c'è da fare un investimento terzo consiglio quindi è i vostri giocatori devono avere sempre con 94 più di forma fisica non so molti sentendo questo consiglio diranno ma cosa vuol dire lo facciamo sempre no perché molta gente nella foga di giocare le partite si dimentica magari entro un campo in campo con cresso un suarez con 85 88 di forma fisica e fidatevi che poi alla lunga si sente fidatevi io lo sento nel gioco dopo il sessantesimo inizia a crollarti il mondo quarto consiglio dicono molto spesso di giocare di prima mattina io vi dico no giochiamo dopo pranzo perché dopo pranzo perché magari la mattina non siete sufficientemente concentrati a fare quello nel senso magari che ne sostinate a scuola lavoro tutto voi volete appunto godere le partite dopo pranzo giocate dopo pranzo perché mentalmente potreste essere più concentrati che magari spararvi quelle 5 6 partite dopo un caffè appena svegli è molto difficile di prendere la considerazione invece dopo pranzo la mattina è già iniziata avete già iniziato la vostra giornata siete già belli cattivi secondo me potreste fare molto bene quinto consiglio il più banale dei consigli non sperimentate in weekend league abbiamo le division rivals giocate quelle volete sperimentare una squadra volete capire division rivals se volete capire il livello più o meno uguale veramente uguale il livello non è che cambia molto c'è addirittura in certe partite in division rivals sono molto più forti i giocatori da quello che ho visto io non sperimentate niente in week league non sperimentate nulla veramente non serve a niente se siete arrabbiati non mettetevi a vendere la squadra cercare fare ragazzi aspettate aspettate la squadra verrà fuori ma non sperimentate in weekend league sesto consiglio che si allaccia questo non vendette la squadra durante la weekend league per poi magari cresso due ore dopo ricomprarla con magari con qualche giocatore nuovo sempre questo riguarda sempre una sorta di sperimentazione però magari cresce avete venuto tutti siete arrabbiati edite ma cosa ne so che ne so vendo su ares prendo messi poi magari sempre state sempre sperimentando poi magari non sapete usare messi dovete ritornare su ares quindi state sperimentando due volte non c'entra niente e oltretutto non è sempre detto che la colpa sia della squadra può essere i server magari non siete in forma voi ve ne accorgerete quindi ragazzi non vendette la squadra durante la weekend league siamo se ne sbaglio all'ottavo consiglio ottavo consiglio quale è un consiglio molto banale ragazzi non arrabbiatevi veramente io ho fatto questa week league arrabbiandomi una volta ma arrabbiandomi con me stesso perché perdo i rigori completamente io perdo sempre i rigori non dovete arrabbiarvi se siete arrabbiati molto arrabbiati smettete di giocare smettete veramente di giocare se siete anche in striscia positiva avete vinto 15 vittorie 15 partite consecutive perdete 1 1 a 0 e siete neri dalla rabbia per voi avete finito giocate domani giocate tra 10 ore fate quello che non giocate più perché vi potrebbe capitare un episodio uguale alla partita che avete appena giocato cosa fate finisce lì la vostra weekend league magari vieno fischiato un rigore che secondo voi non c'è nella come quella precedente filtate persa anche quelle sono errori da non fare non ho consiglio ragazzi miei imparate a usare più moduli imparate usare più moduli dovete costruire la vostra squadra per tutte le esigenze avete le tattiche personalizzate mettetevi quattro moduli quattro schemi diversi non potete mettervi che ne sono 4 4 2 poi un 4 4 2 2 poi un altro 4 4 2 o sempre un modulo a 4 dovete variare io c'ho due forme di 4 2 3 1 perché uno è più difensivo l'altro mi piace di più un modulo stretto è un modulo sempre stretto con gli esterni dovete avere delle varianti perché in questa weekend league si deve essere bravi a capire dove con quale modulo poter far male all'avversario non potete che ne so avere il 4 3 3 ripeto e tutte le varianti del 4 3 3 no poi magari vi va bene però un'alternativa di livello da doveste avere decimo consiglio abbiate pazienza nel senso molti giocatori quando iniziano le partite vengono puniti dal solito kickoff lì eccetera eccetera magari squadre più forti e magari prendiamo subito gol e lì clicchiamo diciamo cavolo è già finita abbiate pazienza io ho rimontato per andare fuori classe una partita che perdevo 3 a 1 3 a 2 3 a 3 ho fatto meno fatti 4 a 3 5 a 4 5 a 5 6 a 6 ho fatto al 118 perché questo vi dico la partita non è finita ovvio io non ho mai rimontato 5 gol 4 si perdevo 4 a 0 5 a 4 e 4 pari quello vede rigori quando prendete due gol ricordatevi che l'avversario pensa sempre psicologicamente che di aver vinto la partita di aver vinto la partita voi dovrete essere più bravi di lui quando lui vince quando noi stiamo vincendo abbassiamo la guardia non giochiamo bene non cerchiamo il terzo gol siamo lì leziosi lo farà anche il vostro avversario tranquilli che così in quel momento ricordatevi quando voi continuate a giocare essere concentrati trovate magari il 2 a 1 lui ha quasi già perso la partita perché il pareggio è lì vicino il pareggio è lì vicino se invece voi prendete il 2 a 0 iniziate a rosicare cercare 1 2 veloci vi snaturate non giocate magari più che adesso col vostro possesso palla cercate subito il gol quindi tiri da ogni posizione avete perso avete perso la partita non dovrete non dovete mai mollare veramente perché tutto si può ribaltare io penso che non si possa ribaltare solo un 5 a 0 a fine primo tempo poi ho visto video di pro ragazzi video di pro fare questo e soprattutto vi do un piccolo consiglio extra se volete imparare a difendere oggi non ve lo posso far vedere perché non è abilitato andate sul champions channel guardatevi i numeri 20 30 40 al mondo controllate come difendono c'è l'opzione per vedere cosa usano con il controller e guardate come difendono che tasti usano imparate io ho imparato tanto guardando alcuni giocatori come the strangers si the stranger principe guardo molti sui replay comunque c'è pieno ragazzi almeno potete guardare anche la top 100 però comunque tutti quelli che fanno 29 sono da guardare hanno imparate tantissimo questo è un consiglio extra che io vi do e niente ragazzi siamo arrivati alla fine del video ci vedremo noi giovedì per i premi fuori classe 3 division rivals speriamo di scurare e speriamo tanto noi ci vedremo presto ciao a tutti ragazzi